Siamo con Antonella Brunette, assessora al turismo del comune di Primiero San Martino di Castrozza, il via ufficiale al ritiro giallo-blu che saranno qui sotto le palle di San Martino fino al 22 luglio, festeggiato nel migliore dei modi, il Verona e i veronesi avranno modo di scoprire tutte le vostre eccellenze locali. Assolutamente sì, noi siamo fieri di avere qui il Verona, io poi ci ho creduto fortemente nel volervi qui perché conosciamo comunque il turista veronese, il cliente che da una vita frequenta il nostro territorio e che lo apprezza, io parlo non solo da assessora al turismo ma anche da operatrice turistica e quindi ci credevamo veramente fortemente, sono contentissima, mi tengo il pallone bello stretto proprio perché ci teniamo. L'anno scorso è stato un successo clamoroso, quest'anno sicuramente si ripeterà il successo e ancora più persone avranno modo di conoscere il nostro territorio, le nostre montagne e tutto quello che offre il nostro territorio oltre a voi che siete bravissimi perché qui c'è un village che è alla fine del mondo anche per tutte le famiglie e noi lavoriamo molto con le famiglie, ci stiamo specializzando moltissimo come territorio sulle famiglie quindi è molto importante questo e da quello che ho sentito e visto non ci sono altri ritiri dove hanno delle cose così splendide, insomma un village così, quindi non posso fare altro che ringraziarvi e dirvi che siamo molto affezionati a voi, continuate a venire, a tornare da noi. Marta Gaio dell'ufficio turistico del Comune di Mezzano, Mezzano che sarà teatro di tanti eventi che coinvolgeranno i giallobru. Sì, Mezzano fa parte dei borghi più belli d'Italia e oltre a un programma culturale c'è anche un programma di vasti eventi, dalla musica classica alle feste di paese la prossima che avremo sarà quella alla festa del Carmine dove ci sarà anche il Paglio degli Asini famosissimo e ben apprezzato da tutti. In questi vari eventi ci sarà spesso la presenza del Verona insieme a noi con varie presentazioni e vi aspettiamo anche per visite guidate e gratuite. Aaron Gaio, assessore allo sport del Comune di Imer, sport che sarà centrale soprattutto in queste due settimane con tanti bambini che affolleranno gli Hellas Camp gialloblu che si terranno proprio a Imer. Sì, è bello per noi poter ospitare i bambini dell'Hellas Camp nella nostra struttura sportiva quindi appunto con la possibilità per chi fa tutta la settimana, per chi può partecipare anche una sola giornata con poi tanti eventi di contorno, partecipando anche con la squadra principale diciamo e che dire, l'invito è di venire a trovarsi, quindi Imer per questa parte sportiva ma anche come contorno alle famiglie che possono essere ospiti del nostro paese in queste prossime due settimane.